Io sono davvero contento di aver ospitato Cogan Miller nel mio ufficio, non solo perché è un grande calciatore, ma perché ha amato e ama Napoli. Ha espresso sempre belle, profonde e sensibili parole per la nostra città e anche stamattina in questa chiacchierata che ci siamo fatti ho visto il suo radicato affetto e legame con la nostra città. Questo è molto bello, gli fa onore e quindi ci siamo incontrati e conosciuti da vicino per la prima volta, perché è capitato un paio di volte e ci siamo stretti la mano durante gli anni che è stata a Napoli. Oggi abbiamo parlato un po' insieme, gli ho fatto anche i complimenti, sta andando fortissimo in Inghilterra e quando vuole venire a Napoli, Napoli è casa sua. Dal primo giorno fino adesso, chiaramente anche con oggi, ho goduto ogni secondo perché la città mi ha dato tantissimo. Spero che anche io in questi quattro anni ho dato il mio contributo, però a me fa grande onore esserci qua con il sindaco perché non è sempre facile per arrivare in questi livelli. Poi voglio ringraziare di nuovo tutti i tifosi, tutta la gente di Napoli che sono cresciuti anche con loro.